L'avventura della rassegna Appennino Gastronomico, menù a chilometri zero, promossa dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, in collaborazione con Coldiretti e Alma, si è conclusa in una cornice straordinaria, quella di Expo 2015. Proprio grazie alla collaborazione della Coldiretti, la cerimonia di premiazione si è svolta quest'anno nella grande area dell'Esposizione Universale di Milano. Sul podio è salito il ristorante e pizzeria da Claudia Corniglio. All'evento di Expo un'occasione importante per i ristoratori del territorio, sia per avere un forte momento di visibilità, sia per incontrare gli chef di Alma. Per quanto riguarda Coldiretti siamo molto contenti di questa giornata, un po' perché chiaramente questa premiazione si è svolta nel padiglione di Coldiretti ad Expo, poi chiaramente perché è stata premiata un ristorante che fa Campagna Mica nel piatto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine il nostro progetto di Coldiretti, di Campagna Mica sta dando anche ottimi risultati, che vuol dire che sempre di più riusciamo a legare il territorio con il cibo, con le tradizioni, con le tipicità del prodotto locale e quindi i ristoranti sempre di più si stanno portando in questa direzione valorizzando anche turisticamente un territorio perché poi alla fine il turista viene nel nostro paese per degustare i prodotti di quella zona. L'Appennino Gastronomico è un concorso importante, siamo ormai al quarto anno di collaborazione, quest'anno gli eroi, così ci piace chiamarli, i ristoratori dell'Appennino, hanno dovuto affrontare il tema della comunicazione. Per ognuno di loro un video e dentro al menu a chilometro zero una ricerca di far arrivare il mondo attraverso il web, attraverso i social in un territorio tutto da scoprire. C'è un grande lavoro, il tema di quest'anno è che un evento sta diventando un percorso e per questo Alma è felicissima di essere sempre al fianco del Parco Nazionale dell'Appennino.